Siamo arrivati ad Aguasul, lo vedete, però purtroppo ha piovuto tutta notte e non ha i classici colori azzurri che tutti conosciamo. Il primo mirador delle cascate di Aguasul. Questa c'è il secondo mirador di Aguasul. Guardate, mamma mia, che meraviglia, che estacolare. Stiamo cominciando a salire, come vedete, le cascate al nostro lato, c'è una bella scalinata. Qui saliamo e vi faccio vedere questa oasi che pochi conoscono, Aguasul, è una figata assurda. Guardate che spettacolo. Sperati al terzo mirador. Qua siamo veramente vicinissimi alle cascate, infatti mi sta pagnando il telefono. Mi sento quella perretta. Oh, quanta belletta. Wow. 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 Un'altra all'altra. A questo punto c'è anche gente che fa il bagno, come vedete. Vedi, ho un pesce appena pescato. Allora, vi ho preso questi gamberi con patatine. Tu anche. Mi sei ripreso. Io ho un pesce appena pescato, l'ho pescato io, alla Veracruzana. Purtroppo non abbiamo fatto il bagno nelle cascate Zaguasul perché avendo piovuto in questi giorni qua l'acqua era abbastanza sporca, ma il paesaggio è sempre fantastico. Ragazzi, siamo arrivati a? Carlos, cascata Misolha. Misolha, che nella lingua locale significa caduta dell'acqua. Che film è stato girato qua? Avatar e Predator. Esatto. Questa cascata è alta circa 45 metri con una profondità dell'acqua di 25 metri. Cioè ragazzi, beccatevi che spettacolo, è in super piena. Wow, impressionante ragazzi, impressionante. Beccatevi. Wow. Cioè, non si sente ma ci stiamo bagnando, solo avvicinandosi. Facciamo questo percorso che ci porterà direttamente dietro la cascata. Cioè ragazzi, è immensa. Sono pronti a bagnarsi, guardate qua. Cioè, come fanno bagnarsi. Wow. Guardate la potenza. Come fanno scendere. Sì. Sì. Sicuramente ci troviamo a tutto il percorso che arrivava proprio dietro la cascata, ma hanno appunto bloccato. Per sicurezza. Vabbè. Vi è piaciuto? Vi è piaciuto Avatar? Sì. 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 Sì.